Queste ultime elezioni politiche qualcosa di nuovo ce l'hanno regalato, a mio avviso, ci hanno fatto scoprire una nuova categoria di persone, l'italiota. L'italiota si differenzia dall'italiano, perché l'italiota è l'italiano idiota, colui che non ha capito o non vuole capire, non apprezza o non vuole apprezzare, colui che non è contento di nulla, colui che non vede il positivo nel rinnovamento, colui che tira a campare, ritenendosi irresponsabile del proprio pensiero, irresponsabile delle proprie azioni, irresponsabile delle proprie decisioni, facendosi abbindolare dal sistema mediatico che ancora una volta, ora più che mai, crea confusione, disorientamento, disinformazione. Addossare la colpa di ciò che sta accadendo, cioè della non formazione di un governo interamente al Movimento 5 Stelle, direi che questo è da italiota. E l'informazione mediatica si sta comportando, siccome è fatta da italioti, ovviamente viene recepita come tale da altri italioti. L'addossare la colpa di tutto questo al Movimento 5 Stelle è da veramente disonesti, da farabutti, da persone senza anima, senza cuore, da persone che ancora una volta dimostrano di non avere interesse né per la democrazia né per noi stessi. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una promessa, direi, con l'elettorato, la promessa di non cadere nell'inciuccio, di portare il rinnovamento, di lavorare a determinate condizioni. E se queste condizioni non ci sono, se queste tematiche non vengono rispettate, è chiaro che non ci può essere la condizione per lavorare. E se una persona non la lasciamo lavorare, non sappiamo come lavora, come potrebbe lavorare, che risultati il suo lavoro possa portare a casa. Ora, se uno ha votato il Movimento 5 Stelle consapevole di questo, è un italiano che vuole il cambiamento, voleva il cambiamento, pretende il cambiamento e quindi è fiducioso nel programma e nella campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Se uno ha votato il Movimento 5 Stelle solo per creare scompiglio, non capendo il programma, ma soprattutto non sentendo si partecipe, non capendo che lui stesso deve essere in qualche modo, secondo la sua possibilità senza pretese nel suo piccolo, anche col suo pensiero, ma artefice del cambiamento, se non ha capito questo, è un'italiota. Se uno ha capito che lui stesso è il protagonista della politica e grazie al Movimento 5 Stelle lui stesso può diventare, deve diventare protagonista del sistema politico, è un perfetto italiota. E allora io mi auguro, nel caso si dovesse tornare nuovamente al voto, di essere in un paese di italiani e non di italioti, perché qualora scopriremo di essere in un paese di italioti, il cambiamento non avverrà mai. E allora quel che abbiamo, potremmo dire, ce lo meritiamo a piene mani. perché è chiaro che il sistema mediatico dominato dai burattini del capitalismo ci sta nuovamente prendendo in giro e sta cercando di affossare tutto ciò che va contro i loro interessi. Questo è lampante, ma l'italiota evidentemente non lo capisce. Sottolineo molto oggi questo termine italiota perché vorrei veramente solleticare le coscienze addormentate, le coscienze da italiota che ancora una volta si fanno abbindolare da un sistema di informazione da perfetto italiota. Cosa che il sistema di informazione mediatico oggi è. Ci distraggono, adesso cercheranno di farlo più che mai in queste feste pasquali per creare in noi ancora più confusione, ancora più disgregazione, perché con la disgregazione loro camminano per i loro interessi e noi no. Siamo come tante paperelle disorientate una va di qua, una va di là, non sanno dove andare, non sanno cosa fare, non sanno cosa pensare. Il Movimento 5 Stelle propone una sorta di aggregazione, ma non solo, una sorta di protagonismo, di impegno, di decisione popolare, propone di ridare al popolo la sovranità. E questo spaventa lor signori, spaventa lor signori del capitalismo imperante, spaventa i burattini del capitalismo imperante, che vivono proprio perché burattineggiati dal loro padrone, cioè i politici attuali, che ovviamente non vogliono questo. noi dobbiamo tornare protagonisti, dobbiamo tornare a pensare che se facciamo una cosa la dobbiamo fare noi e la dobbiamo fare per il nostro bene, per il bene del genere umano, per il bene dei nostri figli, per il bene di tutti noi, e smetterla di pensare che chi è al comando ora fa questo per il nostro bene, chi ha il comando ora fa questo per il bene del capitalismo, per il bene di pochi eletti. E allora se vogliamo cambiare le carte in tavola, se crediamo in ciò che ha sempre portato avanti e sta cercando di portare avanti, nonostante le fatiche, nonostante le insidie, il Movimento 5 Stelle, dobbiamo togliere la veste da Italiota e indossare con orgoglio, con fierezza, la veste da italiano e tornare a credere, a combattere, ma soprattutto a vivere la nostra italianità, a sentirla nel cuore. e per sentirla nel cuore bisogna rendersi partecipi, bisogna rendersi protagonisti, bisogna rendersi attivi, bisogna capire che è il nostro pensiero fondamentale, è il nostro pensiero che conta, è la nostra decisione che va fatta sentire, è il nostro protagonismo che deve decidere, dettare, volere le condizioni per migliorare. È il nostro protagonismo che non deve essere più, il nostro protagonismo, scusate, che non deve essere più quello da partecipanti, deve essere quello da attivisti, non deve essere più quello da delegatori, deve essere quello da persone impegnate, persone che fanno sentire la propria voce e persone che soprattutto pongono le condizioni in cui la propria voce deve contare, deve essere parte decisiva. Questa è la democrazia. Quindi persone che vogliono ridare la vera autenticità alla democrazia. questa parola che per troppi decenni è stata bistrattata, è stata usata senza senso. Questo significa non essere un'italiota e tornare ad essere un italiano. Un italiano vero, perché quella della canzone di Toto Cotugno è un perfetto italiota. sa se anche Toto Cotugno è italiota, ma di questo credo ce ne freghi ben poco. E vorrei tornare a ripetere un altro esempio da italiota, non caschiamoci, l'ho postato anche nel mio profilo Facebook. Caro Renzi, tu che ti proclami tanto un rinnovatore, alla fine domani vai a registrare la trasmissione Amici di Maria De Filippi, che poi il 6 aprile andrà in onda. Quindi vai a casa di una persona che tu hai sempre denigrato, ne hai sempre parlato male di questa persona. Ora vai a casa sua a farti propaganda e come ho detto nella mia, ho scritto nel mio profilo Facebook, Renzi, fatti una Renza, questa è la Renza, così tutti sanno che sia la Renza, che almeno ci potremmo divertire udendo il suono e chissà, chi è vicino può anche fortunatamente sentirne il profumo, ma credo che sarebbe sicuramente più divertente e più interessante che andare a Amici di Maria De Filippi. Ma tutti coloro che guardano Amici sono degli Itaglioti e probabilmente, perché solo degli Itaglioti possono guardare e apprezzare una trasmissione simile e una conduttrice simile, quindi giustamente vai a tingere dagli Itaglioti. E se vai a tingere dagli Itaglioti sei un Itagliota, quindi hai l'altro Itagliota che si mette in gioco. Ma l'Itagliota, lo scopo dell'Itagliota è quello di cercare di far diventare gli italiani degli Itaglioti. E allora non caschiamoci in questo, non facciamoci trasformare in Itaglioti. Questo è molto, ma molto importante. E allora io direi che con questo possiamo avere una definizione chiara di colui che è italiano e colui che è Itagliota. È Itagliota colui che non partecipa, è Itagliota colui che non ha capito il Movimento 5 Stelle e non lo capisce, è Itagliota colui che continua a sognare ad occhi chiusi, solo ad occhi chiusi e non ad occhi aperti, è Itagliota colui che continua a farsi abbindolare dall'informazione mediatica e da questi burattini del capitalismo imperante. È italiano chi crede in tutto il resto, chi crede nei giovani, chi crede nel rinnovamento, chi dà fiducia ai giovani ma soprattutto chi li stimola. li stimola seminando nella loro interiorità messaggi di positività, messaggi di amore, messaggi di fiducia, proposte alternative, volontà di partecipazione. Questo è l'italiano. L'Itagliota è tutto il resto. Quindi la mia domanda di oggi è sei italiano o sei Itagliota? Buone feste a tutti se non ci sentiamo più. Godetevela bene e soprattutto recuperatevi la vostra identità. se da italiano o da Itagliota. Più italiani siamo meglio è, più itaglioti siamo peggio è. Ciao italiano, ciao Itagliota.